... Fermo, fermo! Quella nota non è nemmeno nella scala diatomica. Diatomica? Ho fatto qualche sbaglio. Ma è straordinario. Stai suonando note fra il bemolle e il naturale. È come scoprire una scala segreta fatta apposta per questa musica. Lei crede che questa musica possa andare sino a che è relegata qua giù? Questo è il guaio, non la si può contenere. Dilaga dappertutto. È come se io fossi colpito da un'infezione, solo che l'infezione fa malare e questa musica invece mi fa sentire molto bene. Questa è Basin Street, il centro del quartiere. 38 nidi di corruzione, vizi e degenerazione. Andy, non starei fuori fino a tardi, spero. No, signora, grazie che mi dà libertà stasera. Non c'è di che, buonanotte. Andy, non perdere tempo a mettere via la roba. Oh, ma ho tempo. Non è affatto il caso di apprezzarmi. Sai, io vengo con te. Sì, miss. No, miss, lei non può farlo, miss Mirella. Oh, sì che posso, tu mi porti con te. Oh, non sta bene che una signora vada a Storyville, a meno che non vada in committiva. Do you know what it means To miss New Orleans And miss it each night and day I know I'm not wrong The feeling's getting stronger More than I miss New Orleans Sono innamorati di quella musica, vero? E come? Sambo dice che suonare così è come parlare con il cuore. Non si può mentire. Ultime notizie di teore straordinaria. Autorità navali prendono misure contro Basingstreet. Viva questione del quartiere di Basingstreet. Leggete il giornale. Dove sono gli altri ragazzi? Una volta usciti da New Orleans si sono sparsi un po' dovunque. Sono tornati alle piantagioni, ai campi di cotone e ai battagli sui club. Sono dappertutto. Kansas City, St. Louis, Memphis, Harlem. Hai sentito Sambo? Vogliono in genere.